L'UnicStar, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti sia nazionali che internazionali. Ben trovati al meteo, è ancora l'anticiclone a dominare lo scenario meteorologico, bel tempo dunque e caldo estivo fuori stagione. Vediamo il dettaglio di martedì 3 ottobre. Sul Veneto non si escludono iniziali foschie e nubi basse in qualche fondovalle localmente in pianura, ma in successivo dissolvimento. In seguito cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie e gradevoli, minime tra 10 e 18 gradi, massime comprese tra 25 e 29 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo in genere sereno o poco nuvoloso. In montagna qualche addensamento, ma innocco. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime sui 25 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato al mattino, ma con qualche annuvolamento irregolare a partire dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-13 gradi, massime sui 28-29 all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.